Vabbè se uno vuole vedere come è venuto il video, devi staccare i fai, che devi fare? No, devi fare una pippa Vabbè ho capito, mi interessa la pippa Bella ragazzi, ciao e grazie, siamo tornati in un nuovo video Oggi siamo qui con il grandissimo Non ti muove, non ti muove, sennò vai fuori fuoco Dio, è raga fuori fuoco Che caglioni che siete, me ne vado Siamo qui con LW a fare un video molto carino Perché cosa faremo? Dato che come sapete LW veniva in casa con noi in elementari Non so nessuno, però All'elementari All'acilo volevo dire, no, allora Veniva in classe con noi al liceo Però io lo conosco già da quando avevamo sei anni Perché abbiamo cominciato a giocare a pallone insieme Quindi è come se lo conoscessi dall'elementari Esatto Praticamente Cosa vi devo dire? Niente Che è tutto qui Questo video era fatto per dirvi che stavamo in classe con noi Quindi bella È stato un piacere, lasciammi cinque live La legge dei numeri No, allora cosa facciamo? Andiamo a vedere tipo sul nostro profilo Facebook Le foto che abbiamo insieme noi tre Oppure le foto che non ci stanno Bene, quelle vecchie Ma te vuoi c'è? Perché lui è stato a bere Perché tipo alcune delle mie foto partono dal terzo E lui in terzo è stato boccato Sì E non stava più con noi Ehm Secondo la seconda volta No, seconda la prima Seconda la prima Poi seconda la seconda hai fatto Esatto Allora, niente Tu cosa ti immagini queste foto? Come saranno? Ma io Sto a parlare con te Sto a parlare con te Sto a parlare con te Io parlo e lui parla Oddio Io parlo e lui parla con lui Allora, comunque la supercazzola è molto buona Allora, stavamo dicendo No, 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 te la ricordi? Ma anche Lo ricordi ste cazze Allora, tagga Un nuovo amico Grazie Giù Ti voglio bene Grazie TV Ma io davvero ho scritto TV Regà Ma non c'è Oh, davidino è meglio 94 Io voglio te domani taggati Sei stato te a farlo? No, ma stavamo giù Allora, voglio te domani taggati a me Carco, io non ce sto sicuro No, non ce stai Qualcuno che ti fa morire da ridere? Già, facciamo la carriera spianata, regà Lo so io Comunque, questa è una foto C'è anche L doppia Questa è l'opera dietro Ci sto io Non so se siete d'accordo Guardate i capelli Sono io quello dietro Era sull'aereo Panna a Madrid Questa Pareva che Qui stava cascando l'aereo Praticamente Ma ti ha scelto Tevo ricordi che era la prima volta copiavo L'aereo e te stavi a ridere Di cosa? Ah, no Questa è la sequenza della bestia Questa la facciamo mentre stavamo ubriachi Allora Eh, ma la sequenza della bestia È tipo così Aspetta, è tipo così Eh, ma ce n'ho due Coti or Coti or Coti 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 È tipo così No, ma te ricordi quando scrivamo qua? Sì, qua Era qua Manco mi ricordo te ste foto Fuà Come? Prova a mima sto desiderato La rica Tutti insieme È tipo No, in realtà è così No, io sono per facciare un drago Sì, che roba Allora Ah, questa è la foto con Carlo Zamp Già ero quasi io Qua No Se non eri proprio te Cioè, te sei un'altra persona Io non ce stavo No, non è la foto Questa è la foto Questa è la foto Questa è la foto La foto del giottesimo Con Plano Dexanic Era buona la torta Era buona, sì Questa era l'Apple Eh, c'era un'Apple Corfone Guarda come ho scritto io Speri, metti la foto Cioè, che scrivo Guarda, sai quando scrivi Tipo il romano Borgataro Corfone Per cercarlo Dessere C'è svegliato Mamma mia Rai Io mi ha detto Questa è sulla neve Quando c'era la neve Tutte e tre Con il cappello mio E poi Io con il suo Manco un like Che tristeza Ci sei in culata Nessuno Raga, sto lasciando Mi piace Metti il cuore E fa mettere il cuore Questa è il diciottesimo suo Qui già eravamo un po' più normali Almeno Almeno io Ancora più normale dopo Guarda La mano Allungata Questo era l'ultimo giorno Di scuola della nostra vita Era proprio L'ultimo giorno Prima degli esami Capito Cioè Questa va a dire Io sono un coglione Tipo così Ma uè Guarda che serio Una radia Da giocare Quella è il tiri Questa è la scuola Guarda la lavagna Giustamente Di ogni classe Ce l'avate due Vuoi No Che cacca Ma mamma mia 2009 Rega Sto per vomitare Perché non ho mai vomitato Ti vivi Ti vivi bene Ti vivi bene Ebbè Ma il cazzo Dei gradi Badbog A posto Grazie Questi sono appunti Ma guarda Guarda che soggetto Guarda che soggetto Ma non crede al fatto Che io non mi sono mai messo Un po' Ma non sono rasato Alù Si perché me l'ha detto Arasato Non si è messo un po' Rega Ma che fai E' naturale Che un armare Fai così Che un armare Mi fai così Ma che fai scherzato Col braccio Ma io che mi sono Asciugato Quale te che so Quei colori Che stile Che sta più giù Io mi faccio il bagno Poi mi asciugo E faccio il bagno No Rega Ma a me stavo Sulla ricchia Rega C'è Ma a faccia Devevo C'era mattina Era rega Vero C'era 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 Guarda Guarda E' uguale Questo ho fatto io Vi ricordate Il grande fratello C'era un concorrente Si chiama Giuliano Io ho fatto Tipo la cosa Erano uguali Adesso ho assomniato Ancora di più Perfetto Questi sui commenti E poi Sei ottenuto Ma che è Oddio ma che è quella foto Su? Come farei un pescatore Calcolando Non mi avevo Il culo Il giletto Guarda Il culo Pare che c'ha 70 anni No Rega veramente C'era 12 anni Pareci un 69 Ma era tu C'era di tuo padre Il giletto Ero Ma che è No C'era tutta roba mia Ma Il cavetta Si è il cavetta Ha gravato una rocchia Poi Sono a favostruzzo A capri male Porco dici No No Ragazzi No Pare come Fanno che metti i suoi labili Porco Lorenzo La differenza è che poi C'erano bisogno E ce l'avevo provato Amava la pesca E le piante E pare se io mi sentivo bene Come Penso un po' Guarda Non ci stavo No Pare il centro Spollati E Fatti Il culo Il profeta No No Non so Allo Cazzo No Ma Abbiamo fatto uno Con 9 punti C'era quanto è stata la sessione E il risultato Siamo Io ripa Un po' Pubblico Quasi Quasi Poi Poi capirete Allora Quelli che adesso Stanno lasciando mi piace A questo stato Perché Insomma L'avete capito Ehi Silvio Che c'è Statuetta gruppo pubblico, dai ricordi 146 libri dal 2009 e mi vengono a scrivere lu porco lu porco lu perdono ma la sera dove esce a te riservi ma la sera fatelo su di me Lorenzo Laurenti dai riciamolo adesso HL doppia facciamolo adesso lo facciamo adesso? mio nome? no no sta spizzato tutto ah rifarlo adesso vedendo le cose che ho fatto prima oddio che figata ok lo facciamo ah ci pigna come andiamo a fare? allora ragazzi se arriviamo a chico e hype faremo un video con L doppia di nuovo dove io risponderò a queste domande su di lui e vedremo se risponderanno con quelle che ho fatto 7 anni fa ma che cazzo ti prega? esattamente il 30 novembre 2009 quindi quasi 7 anni fa vediamo se mi riesco a ricordarmene ok speriamo che vi sia piaciuto questo video niente adesso come vedete siamo cambiati siamo ragazzi molto più belli e quindi non esitate a scriverci in direct perchè non siamo come avete visto nelle foto comunque una cosa importante che volevo fare era che volevo salutare White Seamox è un ragazzo che abbiamo amico sullo League of Legends perchè noi come sapete nerdiamo qualche volta sempre è che è stato così gentile da farci dei regali in quel gioco ovviamente non dovevi e basta però non ci fa più perchè sennò ti spendi tutti i soldi e infatti però grazie è stato molto gentile perchè ci ha regalato le skin per chissà che gioca a LoL e sono una cosa figa quindi grazie tanto White Seamox e poi ci vediamo su LoL Infrax mi ha inviato una foto su direct lui è Just come è che non hai foto abbracciati tutti i tenneri carini? vai guarda che frociata ma stavo ancora a registrare no però poi io ho detto camicazzi l'altro giorno a Frax perchè gli hai detto camicazzi? mamma mia ma tutto brutto tutta foto cazzo te fregati a Frax ah ok no stavamo dicendo la sua fan che mi ha scritto in direct è Fall 4 ecco mi saluto a Fall 4 no ma ha scritto una ma il 5 non lo fa no cade il 4 ma quindi gioca pure a COD con Fall comunque ragazzi niente questo video è terminato è arrivato al termine e ha come tutte le nostre vite prima o poi presto fuori il suo disco a RomX ci saremo saremo sabato e domenica e ci sarà anche lui probabilmente mi sto farà l'instore del disco daia e pron... e niente noi ci becamo lì e ci becamo al prossimo video nananananananananana nananananana nanananana genau no